Ben ritrovati con il Comizio.it dai nuovi studi televisivi di Milano. Il Comizio.it è la voce di tutti, trovate scritto sotto la testata. Perché questo? Perché la voce di tutti si intende un contenitore pluralista e accogliente per quanto riguarda le opinioni più diverse, comprese le nostre. Perché molti dei nostri lettori, dei nostri utenti ci hanno chiesto e ci hanno fatto notare ma voi del Comizio non siete propriamente degli opinion maker, non esprimete una posizione netta e chiara su questo, quell'altro argomento a favore di una parte politica piuttosto che un'altra. Noi nella nostra presentazione lo abbiamo chiarito, crediamo con una certa efficacia. Vogliamo però integrare questo ragionamento con altri elementi e con altre spiegazioni. Perché? Perché innanzitutto ci premeva essere uno strumento a disposizione di tutti per cercare di far capire le posizioni più che interpretarle o esprimerle. Questo non per una sorta di furbizia camaleontica, per mimetizzarsi nel panorama delle opinioni. Noi le opinioni le abbiamo, sia a livello personale, sia a livello di testata e talvolta le abbiamo anche espresse, le esprimiamo. Pensiamo a tutta la battaglia, chiamiamola così, che abbiamo fatto durante la pandemia a favore delle categorie meno protette e meno garantite, a favore delle partite IVA, degli artigiani, gli imprenditori, i professionisti che sono stati largamente abbandonati, questo al netto dei bonus, al netto di tutti i sostegni governativi che ci sono stati, sulle tempistiche, sui modi si potrebbe discutere. Certamente c'è stata una scarsa attenzione a molte categorie, il che vuol dire molte famiglie, il che vuol dire un tessuto sociale che è stato messo pesantemente in ginocchio. Ecco, noi quell'opinione l'abbiamo espressa molto, molto chiaramente. Continueremo a farlo in questo campo e in altri, quindi non dubitino quelli che ci contestano una certa timidezza nell'esprimere le nostre idee e le nostre posizioni, che lo faremo quando e come lo riterremo. Invitiamo anche tutti coloro che hanno delle opinioni, che hanno delle idee, che hanno delle proposte, non solo a farcele conoscere, ma a darci dei contributi concreti che possano essere scritti o attraverso dei video o, come abbiamo detto nella nostra presentazione degli studi televisivi, a raggiungerci presso i nostri studi per esprimere e far conoscere la propria realtà. Parliamo di imprenditori, di professionisti, di comunicatori o anche semplici cittadini. Vi aspettiamo! Ilcomizio.it La voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina. Eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it La voce di tutti, la tua voce.